Risparmi energetico e bollette di riscaldamento troppo care. Quante volte si affrontano questi argomenti senza sapere quali sono le reali alternative per risparmiare davvero nelle nostre abitazioni senza inquinare? Enermia, nata dall'Unione del Centro Veronese del Salotto e un'azienda di Perugia, si occupa di fornire alla propria clientela un servizio di assistenza e consulenza su cosa significhi fare risparmi energetico, proponendo, calibrando ogni esigenza, l'utilizzo di sistemi ecocompatibili. Le soluzioni che hanno un miglior rapporto peso-benefici sono le stufe a pellet o le caldaie a pellet, quindi a biomasse, e i pannelli solari, oppure anche i pannelli radianti sia da appendere a parete e sia da pavimento. Enermia propone anche motocicli e biciclette a zero consumi e zero impatto e vi aspetta presso il proprio showroom per consulenze gratuite a Sanguinetto di Verona.